Ricordato con una semplice cerimonia nella chiesa di San Giovanni Evangelista di Macchitella, il sacrificio del maresciallo dei carabinieri Sebastiano Di Mè, ucciso il 6 luglio del 1996 in un conflitto a fuoco mentre cercava di fermare gli autori di una rapina. La tragedia si verificò a Locatevaresino, in provincia di Como, dove il militare siciliano, che aveva 31 anni, prestava servizio. Quel giorno di 26 anni fa l'investigatore aveva notato i due autori della rapina armati di Kalashnikov a bordo di una Fiat Croma e li aveva affrontati, purtroppo con esito fatale. Il 18 maggio del 1998 gli era stata conferita postuma la medaglia d'oro al Valor Militare. La messa è stata concelebrata dal cappellano militare del comando interregionale dei carabinieri Rosario Scivili e dal parroco di Macchitella Giuseppe Siracusa. Presenti i familiari del maresciallo Di Mè, i rappresentanti dell'arma e delle istituzioni di Gela e Caltanissetta, tra di loro il procuratore di Gela Fernando Asaro, il colonnello Vincenzo Pascale, comandante provinciale dell'Arma, il tenente Danilo Landolfi, comandante del Norme di Gela, la cui caserma è intitolata proprio alla memoria di Sebastiano Di Mè, il presidente del Consiglio Comunale di Gela Salvatore Sammito, l'assessore comunale Danilo Giordano, i carabinieri delle stazioni di Riesi, Mazzarino, Butera, Niscemi e Gela, i carabinieri in congedo dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Gela, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale del Nastro Azzurro e l'associazione appartenente alla Polizia di Stato in congedo. La cerimonia si è conclusa al cimitero, dove un trombettiere della fanfara del XII Reggimento Carabinieri Sicilia ha eseguito il silenzio davanti al monumento funebre dove è sepolto il coraggioso investigatore.